Io sono contento del fatto che calano i contagi, calano i ricoveri, calano le terapie intensive, cala il numero delle vittime, aumentano i vaccini e questo ci permette di avvicinarci al risultato. Noi da lunedì siamo zona bianca, siamo la regione italiana che è stata di meno in zona rossa e zona arancione, che è una vittoria di tutta la comunità. Ma ora dobbiamo ricostruire l'economia. Continua la battaglia sanitaria, ma oggi la grande battaglia è il lavoro, l'economia, la ripresa economica. C'è stato un tempo del Covid che era quello di salvare le vite, adesso c'è un tempo dopo il Covid dove dobbiamo salvare le famiglie dal rischio di povertà e di disperazione. Non ci sono miracoli, non ci sono bacchette magiche, si fa così.